Sicuramente è una partita fondamentale per noi come uno scontro per loro, quindi sarà una partita difficile come tutte le altre e noi andremo là per cercare la vittoria perché abbiamo bisogno sia per noi che per la nostra classifica, quindi non andremo là per accontentarci del punto, ma per cercare di vincerla quella partita. Lorenzo, secondo te, che cosa è successo facendo un passo indietro, ritornando al derby, ma ritornando soprattutto a questa classifica che resta predata? Non era certamente questo l'obiettivo stagionale, vivere una stagione decisamente più serena rispetto allo scorso lato? Ovviamente se ci troviamo in questa situazione, comunque per una serie di motivi, non penso ci sia un motivo unico, un po' per colpa nostra, un po' per gli infortuni, perché comunque ci sono mancati giocatori importanti per diverso tempo e siamo entrati in questa situazione dove tocca a noi toglierci. Ci pensava di fare un campionato più tranquillo, però comunque si è parlato di play-off, eccetera, eccetera. Noi siamo una squadra che prima di tutto si deve salvare e poi abbiamo dimostrato di aver fatto anche grandi partite e di tenere il passo anche di squadre più importanti di noi. Però è ovviamente quando eravamo al completo e quando comunque eravamo tutti a disposizione del mister che ha dovuto spesso fare delle scelte forzate. No, ma infatti me l'ha detto prima Beniamino, ci tenevo a chiarirla. Io mi sono girato per esultare con loro, ma se andate a vedere ovviamente io lo faccio spesso quando mi trovo lì in quella zona esultare con i tifosi anche di quella parte. Non so perché questa volta si è vista la vena polemica, mentre tutte le altre dieci magari non è stato detto niente, però comunque ci tenevo a chiarirla che era un esultare con i tifosi, la mia. Infatti non c'è stato nessun gesto, ci tenevo a chiarirla questa cosa che quando me l'ha detta ci sono rimasto pure un po' così perché ho detto, era follia per me questa... Ma non ha detattività per l'osservazione del quale... Sì, no, ma ti ripeto, se tu vai a vedere magari quando ho fatto un assist o col Foggia, se non mi sbaglio, è successo pure, mi giro spesso verso la tribuna o la tribuna a terminio. Superato questo, come io credo che il Ministro, il Fabio e il Monterenza ha detto, ma di momento hanno una questione tecnico-latica, tutta la località, se non è una questione di altre, di da tuo partito, quando la somali è stata attivata dai limiti di personalità o limiti tecnici? Cioè effettivamente la prestazione di Isabel ha iniziato a una squadra che almeno in quella partita ha un loro studi di caratteriali. Ma questo, insomma, se il Ministro dice questa cosa vuol dire che ci ha visto lui questo limite caratteriale. Sì, sì, no, vabbè, l'ha detto lui, quindi non so, magari dovete chiederlo a lui il motivo. Quello che penso è che questa squadra le palle ce l'ha e l'ha dimostrato fin da quando sono arrivato io qua a gennaio dell'anno scorso, perché comunque quando sono arrivato io era una situazione difficile, molto difficile e abbiamo dimostrato con quella salvezza di averle le palle. Se è questa una questione per aver perso i due derby penso sia un po' riduttivo trovare una scusa solo caratteriale. Sicuramente ci può essere anche quella componente lì, però magari siamo andati anche in difficoltà a livello tecnico o tattico. Penso sia un insieme di cose che è un po' riduttivo parlare di mancanza di palle. Grazie. 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 Grazie a tutti. Vi facciamo anche un esempio con il Pescara, secondo te non abbiamo lottato. Io penso che sia stata una partita dove noi abbiamo lottato. Poi siamo andati in difficoltà perché siamo andati subito sotto. Una partita dovevamo vincere. Perché dovevamo vincere contro una squadra che era in difficoltà come noi. Poi ti ripeto, abbiamo preso gol e si sono stati due volte bravi a reagire e recuperare la partita. Io penso che tutti sti ragazzi sti onorando la maglia dell'Avellino io non penso sia questo il problema perché comunque sono tutti giocatori, sono tutti calciatori professionisti quindi se tu dici che non l'onoriamo mi dispiace io ti posso dire che io come tutti gli altri ragazzi ci mettiamo l'anima perché comunque è anche una questione, non è che se l'Avellino va male è un bene per noi ci rimettiamo noi ci rimette la nostra carriera, il nostro futuro e ci rimette l'ambiente, la società i nostri contratti e tutto quindi quello che ti voglio far capire è che se l'Avellino va bene è anche un bene per noi cioè non è un male per noi Ciao Lorenzo due domande in una prima quando riguarda il Pescare e il giocato esterno al centro capo sembra essere davvero una posizione ideale perché riesce a spingere la velocità di corsa la velocità di corsa anche se è contenuto per il Pescare il secondo tempo da Terzino il campionato in cui è stato grande difficilità e diciamo avrete a questo punto in quale zona di campo si è più attuaggio e poi volevo dire visto che l'opera potremmo fargliere il Sanger di parlare di questo finale del termine che è stato un'amenda perché è stata una partita molto tesa anche nei due punti di un'altra ma allora sul fatto del mio ruolo mi sembra un po' che io a 29 anni quasi devo dire qual è il mio ruolo dopo 10 anni di Serie B mi sembra un po' un po' ridicola come cosa cioè io ho sempre giocato terzino destro in tutte le squadre e sono un terzino destro ovviamente con le mie caratteristiche ho giocato un anno a Vicenza come finto attaccante nel 4-3-3 di Marino ma perché comunque c'erano dei meccanismi in quella squadra dove c'era bisogno di uno con le mie caratteristiche in quel ruolo però io sono un terzino e mi esprimo meglio da terzino ovviamente ci sono partite e partite se io devo difendere 90 minuti è normale che possa andare in difficoltà se io attacco per 90 minuti posso darti una mano a livello di squadra quindi ti rispondo spero sia l'ultima volta che mi arriva questa domanda io sono un terzino destro ho sempre fatto il terzino destro quindi questa è la mia risposta poi ovviamente questa cosa della mia duttilità a volte si interpreta male nel senso che siccome sono uno duttile allora non si capisce bene qual è il mio ruolo io se c'è esigenza della squadra del mister mi adatto volentieri a fare altri ruoli l'anno scorso sono arrivato ho fatto sei o state partite il terzino sinistro ma lo faccio senza nessun problema e dove c'è bisogno e dove c'è bisogno la squadra in quel momento io gioco non è un problema però sono un terzino destro massimo domenica ho avuto una discussione con il team manager della Salernitana insomma sono cose che dopo un derby poi io lo sentivo in maniera particolare possono succedere e niente quindi una cosa insomma finita lì sì penso sia cruciale pure la partita di Vercelli nel senso che è uno scontro diretto contro un avversario che lotta per la salvezza quindi pensiamo prima a Vercelli poi dopo sono tre partite in casa dove dobbiamo cercare di fare più punti possibili ovviamente però insomma sarà bene pensare alla partita di Vercelli che credo sia importante ecco Lorenzo ascoltando le due parole non è la prima volta sei sempre stato molto schietto nel momento in cui Magli che non è un problema caratteriale questa squadra in altri punti non c'era però nello stesso momento c'è un problema perché se non mi va rispondo il mio ruolo naturale è il terzino destro però puntualmente è una terzino destro che abbiamo visto in pochissime partire giocata l'anno scorso l'hai ricordata è una terzino sinistra quest'anno è spesso giocata con l'esterno c'è un problema tecnico allora in questa squadra perché il tecnico quando vuole dire a volte la squadra non risponde alle mie solle citazioni la squadra è con la vera ma che allora ti rispondo alla prima parte che ho fatto poche volte il terzino destro quando quest'anno ho giocato praticamente sempre terzino destro e forse l'ultima partita o quando abbiamo fatto il 3-5-2 ma il quinto è forse ancora di più il mio ruolo perché sono sgravato da compiti difensivi e quindi posso ti ricordo a Cittadella che facevamo il 3-5-2 forse il quinto di centrocampo è il ruolo dove posso esprimermi meglio e quindi tutte le altre partite se ti ricordi comunque ho giocato spesso terzino destro o comunque quando sono entrato perché c'era bisogno di una maggiore spinta sono entrato da terzino destro mi ricordo poche partite forse 3-4 Novara questa dove ho fatto il centrocampista quindi è quanto per l'altra domanda era se eravamo col mister questa domanda penso sia scontata e noi siamo col mister e lo dimostriamo ogni volta e cerchiamo di fare in campo quello che ci chiede noi siamo professionisti quindi siamo tutti con il mister e siamo dalla parte del mister fino a che non raggiungeremo questa salvezza e concluderemo bene quest'annata a proposito di moduli secondo te in questo momento la mia relazione è una per sale comunque in questa settimana è più adatto magari il 25 di un 441 o il 421 in relazione alla per sale e la scelta che magari non ha detto se sono il vino a il primo di due minuti davanti in questo momento quale sarebbe la soluzione tattica no ora soluzione tattica migliore non te lo posso dire non te lo so neanche dire nel senso ti posso dire che con le due punte davanti il secondo tempo siamo riusciti a far meglio perché Matteo era troppo isolato e non riuscivamo a salire è anche vero che spesso arriviamo sul fondo a mettere questa palla e magari abbiamo bisogno delle due punte quindi comunque penso che il mister abbia già in mente i correttivi adatti per noi volevo chiedere la mano cedra che sicuramente vi sono i postici comunicati di idea di siedere fatti sui prossimi avversari è un avversario abituato a lottare per la salvezza e si è sempre salvata ultimamente quindi è un campo brutto è un sintetico stretto e quindi è un campo particolare è un avversario difficile come tutti in Serie B quindi andiamo là e ci aspetto una guerra ma per provare è difficile ritrovare qualche la città che mi hanno dato tanto questa calza che non viene a tutti no per me certo io Fabrizio soprattutto lo sento sempre perché comunque c'è un rapporto di amicizia al di là delle questioni calcistiche quindi sarà un piacere ritrovare anche Willy insomma e salutarli prima della partita poi dopo basta non li saluto più non li saluto più